E' partita Eleonora della Fonte di San Vincenzo e vediamo che è rapidamente... Vai Eleonora! La vediamo bellissima, ora sotto l'asta, superato anche questo ostacolo, giro di boa, ora con le uova e si va ancora per il prossimo gioco che è quello dei cerchi, il lancio dei cerchi, il primo non va a segno, il secondo neanche, neanche il terzo a segno e si riparte, si riparte per il gioco della mela e una mela è a posto, due e si va ancora, giro di boa, giro di boa, dentro al riguardo, poi si riparte col secondo concorrente, via! Va Luigi! Ed ecco anche Luigi che velocemente va al percorso tra i virilli ed ora all'ostacolo, l'asta da superare e anche questo è superato, giro di boa anche per Luigi che ora va al gioco delle uova, le uova la rompe, anche questo è stato superato, giro di boa ancora e velocemente nel riquadro dei cerchi, si va anche con i cerchi, primo cerchio non è da segno e via il secondo e il terzo nessuno dei tre si riparte per il gioco della mela, il gioco della mela e si lascia nel riquadro ancora il triciclo, la prima mela è andata, anche la seconda e si riparte fin al traguardo, giro di boa, giro di boa, giro di boa e al traguardo!